Ciao a tutti, eccomi tornata con un nuovo video, mi scuso da subito per la luce che è peggio del solito, non so perché. Oggi, essendo che è iniziato agosto, in teoria sono abituata a fare il post sul blog, da poco insomma, il video su YouTube, e dei top e flop, ma ho deciso di cambiare perché onestamente ogni mese avevo difficoltà a trovare i flop, ed è una gran cosa questa. Quindi ho pensato, dato che comunque i top erano i prodotti più utilizzati del mese alla fine, di trasformare i miei top e flop nei most played, ovvero nei prodotti più utilizzati del mese. Spero che vi piaccia questa cosa e poi insomma, quando accumulerò più prodotti flop, farò un video solo dei flop. Iniziamo subito. Il mio prodotto che ho utilizzato di più per quanto riguarda la base è questa BB Cream della Sobio, e questa è quella nella texture leggera. Nonostante io di solito in estate non utilizzo prodotti cremosi perché mi dà fastidio quando sudo, prediligo il fondotinta minerale, oppure a volte se sono un po' abbronzata evito proprio di mettere tanti prodotti per la base, ma visto che quest'estate, proprio estate non è, la sto usando davvero tanto perché di giornate calde ce ne sono state poche, e quindi durante il mese la utilizzerò davvero davvero tante volte. Io ho la tonalità 01 e mi piace tantissimo, ce l'ho ormai da questo inverno. È leggerissima, è uniforma bene all'incarnato, ha una buona durata e mi piace davvero tantissimo. Altro prodotto per la base che ho utilizzato molto in questo mese è il correttore sempre della Sobio. È questo correttore compatto, io ho la colorazione 01 Beige Claire, ed è appunto un correttore compatto sul beige, come vedete. Pur non avendo, diciamo, una punta di aranciato, forse proprio minima, e riesco a correggermi davvero bene le occhiaie e anche le imperfezioni. E mi piace molto la consistenza perché, diciamo, ho scoperto che con l'andare del tempo che mi piacciono molto di più i correttori così compatti e pastosini, perché trovo che mi riescono a coprire meglio le mie occhiaie. E vanno sì un pochino, cioè non vanno nelle pieghette, però vanno un po' tamponati con una cipria per aumentarne la durata. E questo mi piace davvero tantissimo. Tra l'altro sono contenta che mi piaccia tanto perché viene intorno ai 11-12 euro, e secondo me per un correttore non è proprio poco, però effettivamente li vale tutti. Per quanto riguarda le ciprie, di solito uso tantissimo quelle traslucide, diciamo, quelle trasparenti, ma visto che fino a una settimanella fa ero proprio bianca, anche adesso l'abbronzatura ormai è già andata via, ho usato tantissimo questa cipria colorata della MOA. Come vedete questo è ovviamente opaca, è questo beige, che anzi per il mio incarnato è d'inverno anche un pochino scura, però adesso è perfetta, come vedete. E questa è la shade 2. E' una buona cipria, soprattutto per quanto viene, perché viene intorno ai 2 euro, copre bene, uniforma il viso, non fa lucidare assolutamente la pelle, e quindi è davvero ottima. Da quando l'ho comprata non me ne separo più, e sto parlando della terra della Sun Club di Essence. e questa è la 01 Natural. E' una terra completamente opaca, che cercavo da tanto, e non è particolarmente aranciata, come vedete. E' un bellissimo colore, non so quanto si noti. E' perfetta per, infatti l'ho sfumata sulla mano, non siete nemmeno, perché è perfetta proprio per il mio incarnato. E poi ha questo odore di cocco buonissimo, che rimane tra l'altro anche sul viso, quindi mi piace davvero davvero tanto questa terra. La uso sia per fare un contouring leggero, o anche per, cioè, semplicemente per un effetto baciato dal sole. Per quanto riguarda i blush, in estate ho un po' un piccolo problemino. Rispetto all'inverno, a me ogni blush dura veramente tanto, e d'estate sarà magari se studo un pochino, e tendono a scomparire in fretta. E ho usato tantissimo questa combo. Questo è blush della B-Chic in crema, e questo qui della Moa in polvere. Ora, come... Dalla fotocamera sembrano due colori diversissimi. Invece, in realtà, questo qui è proprio un tono leggermente più chiaro. E questo qui della B-Chic mi piace tantissimo, è un bellissimo color pesca, che è molto bello addosso, ma tende ad andare via in frettissima. Visto che comunque ce l'ho anche da tanto, e volevo anche incominciare a smaltirlo, lo sto utilizzando tanto, mettendo poi sopra questo qui della Moa, che d'inverno mi dura tantissimo, e d'estate da solo non mi dura nulla. Questo è lo shade 1. Quindi questa accoppiata insieme mi fa durare moltissimo il blush, e mi piace davvero tanto. E non va ad alterare il colore, cioè lo rende solamente un po' più intenso. Io lo applico con un pennello due fibre, due fibre, ed è davvero carino l'effetto. Per quanto riguarda gli ombretti, sceglierne solo uno per me è impossibile, e ho usato tanto, nonostante non mi faccia proprio impazzire, questa palettina dell'Essence, l'All About Nude, che tra l'altro non vi posso aprire, perché il secondo colore, questo rosino antico, si è rotto. Non chiedetemi perché, e se ti vuole aggiro, per mostrarvela aperta, accade. E' una cosa che mi dà un fastidio atroce. Non so perché sia successa questa cosa, vabbè. E comunque la uso tantissimo, per i trucchi veloci, ma la uso soprattutto come base, una matita che poi vi mostrerò, perché da sola, effettivamente, almeno i primi tre colori, ma anche il quarto, sono davvero poco poco scriventi, sono un po' polverosi, e più che altro non si notano quasi sulla palpebra. Due colori che sono davvero belli, sono gli ultimi due, in particolar modo l'ultimo, che è un marrone caldo, con una punta di viola all'interno, che tra l'altro, è quello che ho adesso, cioè il trucco fatto sulla palpebra mobile, oggi l'ho fatto con questa, che cioè è comoda appunto, per fare dei trucchi veloci, ma non è questa grande palette. Preferisco molto di più, l'All About Paradise, della Essence. Ho usato tantissimo, anche gli ombretti minerali neve, ormai lo sapete, quelli che ho usato in assoluto di più, sono Liquid Mirror, Sole d'Africa, e Oro Lilla. Liquid Mirror, è praticamente fantastico, cioè mi chiedo come ho fatto a stare, senza un ombretto simile fino adesso, perché è questo bellissimo, oro luminosissimo, che anche solo ho steso questo, su tutta la palpebra, e mascara da una luminosità, lo si guardo pazzesca. Tra l'altro li applico quasi sempre da asciutti, per un fattore di comodità, e nonostante questo, mi durano tutto, tutto il giorno, e sono davvero fantastici. Mi piace tantissimo anche Sole d'Africa, che è questo color rame, che tra l'altro trovo che sia particolarmente bene, con gli occhiali, perché crea un bel contrasto, e anche questo è bello applicato su tutta la palpebra, solo nella sfumatura, per fare una riga delianer, è davvero fenomenale, ha dei riflessi spettacolari. E infine, Oro Lilla, che avevo ricevuto come omaggino, ed è un ombretto fantastico, perché fa una figura allucinante, e come vedete, sembra quasi che siano due ombretti sovrapposti, e è questo Lilla, con dei riflessi dorati pazzeschi, e io questo qui lo applico, solo questo sulla palpebra, mascara e matita, ed è un trucco fantastico, davvero davvero bello. Per quanto riguarda le matite, le matite che ho utilizzato di più in questo mese, sono oltre la classica matita nera di Essence, la Long Lasting 01 Black Fever, che ormai vedete in tutti i video, e quelle che ho utilizzato di più, sono due pastelle neve, una è Cincillà, che è appunto questo beggiolino, un po' sadinato, possiamo definirlo, che uso tantissimo, tantissimo come base occhio, e appunto, per la palettina di Essence, anche adesso ce l'ho come base, e in questo modo va ad intensificare di più i colori, che non essendo particolarmente scriventi, diciamo è un buon aiuto. La uso anche ogni tanto nella rima dell'occhio, però sinceramente la uso molto molto di più come base ombretto. Altra matita che uso tantissimo e mi piace da morire, è il pastello cielo, che è tra l'altro quella che ho adesso, sotto la rima inferiore dell'occhio, ma con questa luce non so quanto si veda, è questo bellissimo azzurro chiaro luminosissimo, è bellissima anche questa da usare come liner, nella rima interna, come base ombretto, è bellissima. Come mascara, diciamo che io cambio mascara praticamente ogni giorno, perché ne ho parecchi aperti, ma in assoluto quello che ho utilizzato di più in questo mese, è il Pupa Vamp, che ormai conoscete tutte, mi piace da morire, questo è lo scovolino, mi piace tanto perché volumizza le ciglia, le allunga, è bello nero, ed è veramente un mascara da provare, se ancora non l'avete provato. Per quanto riguarda le labbra, a parte il rossetto che ho adesso, che è il 12 di Essence, ho usato tantissimo l'accoppiata di questi due prodotti, ovvero il pastello fenicottero di neve, insieme al rossetto Essence 08 Color Crush. Sono due colori praticamente identici, già il pastello in sé dura tantissimo, già il rossetto da solo dura tantissimo, messi insieme hanno una durata pazzesca, se ci mangio, se ci bevo, rimangono, e va via diciamo, lasciando un alone, non va via a pezzetti, questa secondo me è una cosa davvero importante, perché è proprio brutto, quando il rossetto va via a pezzi. Questa combo mi piace davvero tantissimo, la trovo molto molto estiva, e anche con un trucco semplicissimo sugli occhi, si dà importanza così alle labbra, ed è davvero bello. Vi voglio mostrare anche uno smalto, che ho utilizzato moltissimo in questo mese, ed è questo di Kiko, il Sancho, della linea Sancho, ed è il 471, ed è questo bellissimo fucsia, con dei riflessi oro all'interno, non so ovviamente quanto si noti, ma è davvero bellissimo, e ha anche una discreta durata, insomma, a me tutti gli smalti Kiko non durano più di tre giorni, dicenti insomma, che poi iniziano a sbeccarsi, all'inizio dell'unghia, però questo è davvero bellissimo, e molto molto estivo. Niente ragazzi, è questo, sono stati i miei prodotti più utilizzati del mese, fatemi sapere con un commentino, quali sono stati i vostri, e se avete utilizzato qualcuno di questi prodotti, e ci vediamo al prossimo video, ciao!